Lo scontro salvezza è nostro, lo scontro salvezza è nostro finalmente ragazzi, siamo realisti, loro avevano due punti, loro uno, è lo scontro salvezza e Milano ha vinto. Tra l'altro vi ricordo che prima che vi meravigliate, no abbiamo vinto con Venezia, ricordatevi che domani siamo nella parte destra della classifica, per dirvi. Allora io, vedete anche la live reaction che uscirà domani, domani pomeriggio, non domani mattina, di quanto questo risultato sia una vittoria, ma sia, per quanto mi riguarda, ininfluente. Perché ragazzi, ora io, con tutto il rispetto, con tutto l'amore, con tutto l'impegno e la dedizione che ci metto, ma ragazzi, era Venezia, una squadra che lotta per la salvezza. Voi avete fatto tanti, voi parlo di dirigenza, anche di alcuni tifosi, perché devo parlare anche di loro. Avete fatto tutto questo casino durante l'estate, il Milano, lo Scudetto, ma anche tu volessi arrivare in Europa League, tu col Venezia in casa devi chiudere la partita in mezz'ora. Quando dico chiudere le partite in mezz'ora, io intendo questo. Cosa che devi fare a Parma, cosa che potenzialmente potevi fare col Torino, con la Lazio magari. Qualche difficoltà in più, posso anche dire, ci sta che ci sia. Detto questo, ragazzi, non potete, non potete assolutamente, tappare la merda con un fazzoletto. Perché voi, parlammoci chiaro, avete fatto tre partite di avvio di campionato, aberranti. Cioè da quando si è col Milano in un inizio di campionato così, manco con Inzaghi, con Mierovic, con Brocchi, con quei Milan lì, me lo ricordo, con Montella, Gattuso. C'erano delle prime tre partite e noi le vincevamo sempre. Che fosse l'Empoli, che fosse, che ne so, il Genoa, che fosse... Noi le vincevamo sempre. Poi, come finiva la stagione, quella è un altro par di maniche, però... Io l'ho detto in live prima per chi c'era. Voi, per... Per rimediare alle prime tre partite di campionato, per quanto riguarda me, non vi basterebbero tre mesi. Cioè, voi, per tornare a strapparmi un sorriso, voi per tre mesi mi dovete rigare dritto. E no, non vi concedo un pareggio, non vi concedo neanche un gol subito. Dopo le prime tre partite, sei gol subiti, due punti, due pareggi e una sconfitta, attacco sterile, difesa con la Prodo, pressing alto. Ragazzi, ma vi rendete conto che siamo il cazzo di Milan? Vi rendete conto che... che non stiamo lottando per la salvezza? Vi rendete conto che... spendete i cento milioni sonati a mercato e i risultati sono questi? Ve lo volete ficcare nella cazzo di testa? Che una vittoria col Venezia è nulla? Cioè, come... spegnere un incendio con la pistolina dell'acqua? Qua l'incendio è... c'è un bosco che sta bruciando. E la vittoria col Venezia è la pistolina di merda quella con cui si facevano i cavettoni al mare. Ecco cos'è la vittoria col Venezia. Voi adesso, per spegnere sto incendio, dovete far volare gli aerei. Gli aerei, gli aerei devono... tutti cascare nella porta degli altri. Per i prossimi tre mesi, fino a Natale. Una prestazione così per me è insignificante. Vittoria sconfitta che sia. Ragazzi, aprite un po' i cazzo di occhi. Eh, ma Fonseca deve avere tempo. Deve avere tempo, ma tanto... I punti li hai persi. Di quello che ti pare, però. E tu i punti li hai persi. Fatto sta che evidentemente i problemi ci sono. Detto questo, la partita parla da sé. 4-0, chiusa in mezz'ora. con un Venezia che praticamente non si è neanche presentato a San Siro. Con un portiere che urla vendetta. Mi dispiace per loro. Nonostante nei primi dieci minuti ci sono state due sbrodolate difensive belle, lussuriose da parte del Milan. dove il Venezia evidentemente che non ha attaccanti di livello permettetemi di dirlo non ha sfruttato l'occasione però io vi ricordo che tra una settimana l'ho detto 40 volte in live c'è il derby se queste sbrodolate difensive le fate ma neanche al derby contro il Liverpool contro la Fiorentina contro la Roma non serve andare a prendere squadre che puntano a vincere i titoli le squadre anche un pochino leggermente sotto queste cose non le devi fare ma io è una due anni e mezzo che lo ripeto evidentemente sto parlando all'incredibile e inesorabile vento secondo tempo che il Venezia il gol lo fa perché lo fa poi viene annullato per un fallo a iniziazione che non ha niente a che vedere con il gol fa parte dell'azione del gol quindi è stato giusto annullare il gol però tutto quello che è venuto dopo è stato un errore dietro l'altro pressing alto difesa alta non viene attaccato al portatore di palla gol sotto le gambe tutta una serie di cose di cui che sto denunciando da anni che va avanti poi il gol è stato annullato quindi meno male ma rimane il fatto che a giochi fatti il gol il Milan l'ha preso anche oggi sarebbe stato un influente sarebbe contato quando due di picche sti cazzi il gol il Milan l'ha preso in una partita così non riesco neanche a dirvi degli individuali perché chi è stato il migliore Ternandez Pulisic Leao forse Pulisic è stato il migliore però rimane comunque il fatto che dopo tre prestazioni dopo che col Torino vai sotto 2-0 e ti ritrovi a pareggiarla all'ultimo col Parma non solo non non vinci ma non dai neanche l'idea di pareggiarla lontanamente con la partita giochi con la Lazio per vantaggio dopo 8 minuti ti fai rimontare in 3 minuti ti fai rimontare e poi trovi su una pavola del portiere il gol del 2-2 e però vinci 4-0 col Venezia cioè ma siete clamorosi siete cazzo clamorosi ah ho fatto schifo però ho vinto 4-0 col Venezia allora mi devi lasciare no non ti lascio stare non ti lascio stare per un cazzo perché faccio lo stesso discorso che facevo l'anno scorso perdonatemi la ripetizione quando vincemmo 5-1 col Cagliari io che me ne faccio del 5-1 col Cagliari se la partita prima pareggi 0-0 con la Juventus e quella dopo perdi tra uno col Torino che cazzo me ne faccio la gente proprio non lo vuole capire non lo capirà e non so cosa dirvi adesso verranno due impegni molto tosti tra cui Liverpool l'Inter e comunque anche il Lecce che stranamente ogni anno almeno un punto al Milan lo rosicchia fisso vediamo vediamo nelle prossime due partite di cosa siete capaci io ripeto fiducia ve la devo dare perché non sono io che decido cioè per me Fonseca dopo la partita l'avrei subito matto a fanculo cioè la mia pazienza è finita me ne frega niente cioè per recuperare la pazienza mi dovete veramente fare il campionato dei campionati cioè mi dovete giocare come il Napoli due anni fa per farmi recuperare la pazienza perché qua siamo messi male io mi dispiace perché mi dispiace parlare male della mia squadra mi dispiace già mi dispiace parlare male delle altre squadre qualunque se siano figuratevi della mia noi ci vediamo con la live reaction domani a buon intendito o poche parole e forse ne ho dette anche già troppe forse mi sono dileguato abbastanza su un concetto che è a mio parere di una semplicità assai vergognosa come il Milan vergognoso come il Milan ripeto pensateci bene sperate sperate perché io non spero sperate che le prossime due partite che sono importanti ci sia il cambio di rotta perché altrimenti stasera ho ragione io ma non vi preoccupate perché io come avevo ragione due anni fa come avevo ragione l'anno scorso come avevo ragione sei mesi fa continuo a avere ragione e le prossime partite ve lo dimostreranno like e iscrizione ci vediamo su tiktok e anche su youtube con la live reaction domani uscirà poi la carriera con il Bradford su fifa ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti